amici della bilancia buon pomeriggio anche per voi la settimana per fortuna mi trovo insomma per tempo a dovervi postare ho anticipato un po dovuto dividere gli oroscopi e chiaramente come si ho detto anche negli altri segni e parto subito con voi con la vostra settimana sempre breve e intensa alle volte insomma mi stupisce o il leone o la bilancia alle volte insomma avete una settimana concentrata e brevissima comunque anche per voi c'è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 ottobre 2021 inizierete questa settimana con un'energia di prosperità c'è la nascita di un qualcosa di nuovo in tutti i sensi potrebbe essere la nascita di un figlio una relazione comunque appagante momenti comunque ripeto appaganti momenti di felicità qualcosa di nuovo che sta per fiorire è un'energia fresca e quindi è un periodo fecondo sotto qualsiasi punto di vista voi nelle settimane precedenti avete vissuto comunque situazioni negative che magari potreste anche portarvi avanti per questa settimana e queste situazioni sono state causate perché queste situazioni dovevano farvi capire queste situazioni negative dovevano farvi capire che era arrivato il momento di cambiare direzione e dovevate fare altri tipi di scelte e quindi per questo motivo dovevano farvi capire ed erano come se fosse delle prove infatti vi invitano proprio a cambiare direzione a fare delle scelte totalmente diverse da quelle che avete fatto fino adesso avete un 3 di coppe come lo avevate anche nell'energia il 3 di coppe è un momento di abbondanza un momento appagante è un momento proficuo di prosperità sotto ripeto qualsiasi punto di vista ed è quindi è un momento è un momento adesso di raccogliere i frutti ci avete messo tanto impegno avete avuto tanta negatività nelle settimane scorse quindi è arrivato il momento di raccogliere non sono stati dei momenti chiaramente indifferenti sono stati dei momenti anche pesanti e quindi adesso dovete prendere tutto quello che vi arriva ci sono chiaramente in questa settimana delle delle difficoltà del qualche altro impedimento chiaramente non mancano queste cose però sono sono delle situazioni difficili da gestire ecco cioè si hanno delle difficoltà sotto questo punto di vista potete tranquillamente andare avanti sono soltanto piccolissime cose quelle problematiche di tutti i giorni che ogni tanto magari ogni tanto c'è l'intoppo e si crea quindi potete tranquillamente proseguire andare avanti non vi dovete comunque sentire appesantiti da questi da questi malesseri passeggeri che vi possono chiaramente arrivare perché ripeto il momento comunque propizio sia per dei guadagni sia per delle vincite dovete prestare sempre attenzione questo sì ma chi di noi non deve avere comunque gli occhi sempre ben aperti e quindi prestate attenzione proseguite andate avanti senza problemi il consiglio che le carte comunque ci danno è che voi siete comunque arroganti siete impulsivi nei confronti degli altri magari vi sentirete anche ostacolati no vi sentirete scusatemi sì ostacolati come vi ho detto prima ma vi sentirete proprio influenzati da questi piccoli ostacoli che si possono creare in questa settimana e vi portano magari delle indecisioni ok cambiate cambiate assolutamente riacquistate la fiducia in voi stessi riprendete in mano la vostra vita la vostra strada il vostro tutto lasciate perdere al problemino che magari passa lungo il percorso della vostra vita perché quelli comunque sia ripeto ce li abbiamo tutti quanti quindi se nell'eventualità andate a sbagliare l'approccio in determinate situazioni fate un passo indietro cambiate rotta e ricambiate di nuovo strada non vi preoccupate è l'atteggiamento magari che alle volte è sbagliato ed è l'atteggiamento che deve essere cambiato non dovete focalizzarvi sul vostro modo di pensare di vedere le cose e di agire sempre alle volte cercate comunque di cambiare atteggiamento perché non fa mai male quindi crescete maturate se sotto certi punti di vista vi sentite magari immaturi perché comunque adesso vi si sta dando la possibilità di poterlo fare abolite l'impulsività abolite l'arroganza ripeto cambiate proprio l'atteggiamento nei confronti degli altri nei confronti della situazione ok ringrazio tutti quanti per i nuovi come ho detto tutti gli altri signi credono sono mi ricordo e vi invito comunque a iscrivervi al canale a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati a chi già è iscritto vi ringrazio tantissimo continuate a mettere mi piace così supportate il canale e chiaramente mi dimostrate che avete seguito e che magari vi piace cioè vi riscontrate con quello che ho detto e poi se avete bisogno di un interattivo di una stesa su un argomento in particolare chiedete tranquillamente senza problemi e se avete bisogno di un consulto privato nella voce informazioni sul mio canale ci sono i miei due numeri di telefono potete chiamarmi quando volete non chiamarmi scusatemi mandare un messaggio su whatsapp perché a numeri che non conosco non rispondo poi ci sentiamo così vi darò tutte le spiegazioni che insomma necessitano vi ringrazio vi auguro una buona domenica un buon inizio settimana per domani un bacio e a presto